Abbiamo detto un passo indietro, sicuramente rispetto alla partita con il Potenza. Non è piaciuto il pescare al piccolo trotto all'inizio, anche se forse Raffià e Merola non avevano quella brillantezza della partita di domenica scorsa. Sì, credo che sia un'analisi corretta. Diciamo che le aspettative erano più elevate in funzione della prestazione fatta domenica scorsa. Però credo che nel computo di un girone di ritorno che cambia, anche su campi difficili come questi, diciamo che bicchiere mezzo pieno è vedere il fatto che non prendiamo gol da tre partite. Con un grande bobbene questa sera? No, no, la fase difensiva anche sulle palle inattive dove loro erano molto pericolosi sia nei saltatori sia in chi li calciava abbiamo difeso bene. C'è rammarico perché secondo me si poteva fare sicuramente qualcosa di più là davanti. Per esempio abbiamo avuto tre palle nel primo tempo con Merola più o meno simili e non siamo stati incisivi o cattivi come la domenica scorsa. Sicuramente nel secondo tempo abbiamo anche perso un po' più di campo e non abbiamo gestito la palla come sappiamo fare, come potevamo fare. Ecco, due aspetti voglio sottolineare. Nel primo tempo mi è sembrato su certe situazioni un Pescara un po' lezioso, come andava in maniera superficiale a cercare le giocate. Addirittura una palla invertita in orizzontale di Merola poteva costare cara, è stato molto bravo bobbene in chiusura. E poi quando Giabbo è stato ammonito, lì è scesa tanto l'intensità del giocatore, è stato anche costretto al cambio. Mi è sembrato un Pescara con Giabbo e un Pescara senza Giabbo. Sono pienamente d'accordo, nel senso che il fatto di essere leziosi probabilmente eravamo meno lucidi, non tanto leziosi ma non eravamo brillanti mentalmente di gambe come è successo la scorsa settimana. Sul fatto di Giabbo oggi sono giocatori, lui e Craia, che danno veramente una sostanza incredibile perché a mio avviso nel primo tempo hanno retto alla grande nelle transizioni, nelle ricuperi palla, nella gestione. hanno fatto veramente bene. Complice l'ammunizione, anche lì, se andiamo a rivedere come abbiamo perso palla, ha dovuto commettere fallo per non subire una ripartenza, ha dovuto stare molto più attento a quello che era l'aspetto dell'aggressione, della riconquista palla, finché poi anche nel secondo tempo ha cercato di fare il suo dovere, ma molte volte ha dovuto fermarsi per non incappare nella seconda ammunizione. E con il cambio sicuramente qualcosa è cambiato in negativo rispetto a quello che prima stava portando lui. Faccio l'ultima, io poi do la linea allo studio. La mia considerazione, Colombo, è questa. È un Pescara che ha provato a fare la partita ma non ci è riuscito fino in fondo. Nel secondo tempo ha dato un messaggio lei inserendo l'Escano con Vergani e non immettendo il centrocampo a tre quando il Pescara stava soffrendo in quel momento. Significa che il Pescara giochera sempre a due? No, significa che si vuole vincere. Si crede nei giocatori che si hanno a disposizione anche nei momenti di difficoltà tattica come quella che stavamo vivendo nel secondo tempo. Dare magari un segnale di essere un po' più coperti per cercare di portare a casa il pari, come poi è avvenuto, non credo fosse un segnale giusto, positivo. Perché, ripeto, abbiamo dei giocatori che comunque se stanno bene, se hanno tutto a posto possono incidere in qualunque momento. Da Colai ha lo stesso cupone nelle ripartenze dove ne ha fatte tre o quattro, poi magari ha perso un po' anche lui nella fase finale di lucidità. Ecco, e potevamo capitalizzare delle situazioni potenzialmente pericolose. Risponda solo sì o no? Contento di questo punto? Solo sì o no? Ma, nì. Ecco l'auricolare per il tecnico Colombo, una domanda e lo lasciamo ai colleghi. Vi ascolta Colombo. Buonasera Colombo, la domanda naturalmente sarà fatta da Fabio Ferreresi. Ciao Ministro, sulla partita è detto benissimo oramai tutto tuo e c'è poco altro da aggiungere. Ricollegandomi all'ultima considerazione di Enrico, volevo chiederti se potremmo mai rivedere il doppio centravanti, che secondo me è un'opzione che Pescara può avere nelle corde anche da inizio partita, o se per te è soltanto un'ipotesi da partita in corso quando magari si vuole vincere o si vuole sbloccare il risultato. No, no, sicuramente è da valutare anche a partita, ad inizio partita. Chiaro che oggi venivamo da una prestazione dove alcuni giocatori avevano dato un contributo notevole, quindi avevamo le aspettative simili a quella del post-potenza, perché comunque Raffià in zona di rifinitura, con gente di gamba come lo stesso Vergani e Merola e lo stesso Marco, potevano sicuramente fare qualcosa di più. Quando ci siamo un po' appiattiti in termini di gioco e stavamo soffrendo, ho optato per questa scelta anche per bloccare magari un po' di più i loro due difensori, non dandosi una copertura reciproca ma dovendo andare a giocare il due contro due là davanti. Purtroppo non siamo riusciti anche in questa situazione a ottenere quello che era nelle intenzioni.